Barbara D'Urso Barbara D'Urso, a giugno iniziano le nuove riprese della Dottoressa Jo, nel cast anche Patrick Dempsey di Grey's Anatomy Barbara D'Urso torna a recitare con la nuova serie della Dottoressa Jo, nel cast anche l'attore Patrick Dempsey La Dottoressa Jo torna in tv. La notizia era nell'aria da tempo ma è ora il settimanale Spy a confermare che le nuove riprese della fiction con protagonista Barbara D'Urso inizieranno ufficialmente a giugno Dunque, dopo la fine della stagione televisiva di pomeriggio 5 e domenica live, la conduttrice napoletana tornerà sul set per indossare di nuovo i panni della ginecologa più famosa degli anni 90 Secondo le prime anticipazioni ci saranno tre partner maschili nella nuova stagione della serie e uno di questi sarà l'irlandese Patrick Dempsey Patrick Dempsey folgorato da Barbara D'Urso Il celebre dottor stranamore di Grey's Anatomy ha conosciuto carmelita la scorsa estate a Ischia ed è rimasto folgorato dalla personalità della presentatrice Mediaset Per questo ha deciso di partecipare alle riprese della nuova stagione della Dottoressa Jo Chi saranno gli altri attori? Per il momento non è chiaro Certa solo la location, la serie sarà girata sulla costiera amalfitana, all'ospedale di Amalfi Dunque la storia non sarà più ambientata a Roma, come nelle prime due stagioni, bensì in Campania Sulla sceneggiatura la D'Urso aveva già anticipato che si ispirerà molto alle serie tv americane, tra cui appunto quella dell'Hub con Ellen Pompeo La storia della fiction La dottoressa Jo La dottoressa Jo è una fiction andata in onda in Italia, su Rete 4, in due stagioni nel 1997 e nel 1998 La dottoressa Jo è stata preceduta dal film tv del 1995 e la dottoressa Jo una mano tutta da stringere Proprio il grande successo del lungometraggio ha spinto Mediaset a creare una serie tv che non ha poi tradito le aspettative Nel cast oltre a Barbara D'Urso c'erano anche, Fabio Testi, Paolo Calissano, Filippo Nigro, Selvaggia Quattrini L'Urso c'erano n descriúde